In partenza, a metà marzo, la nuova, attesissima serie turca Endless Love, il cui nome originale è Kara Sevda. Endless Love prende il posto di Terra Mara nell'appuntamento quotidiano delle 14 e 10, mentre Terra Mara resterà solo nel selale di venerdì e domenica. Endless Love è incentrata sull'amore travagliato e senza fine di due giovani, Nihan e Kemal. Scopriamo insieme la trama di Endless Love, che vanta di essere la serie turca più vista al mondo, nonché vincitrice dell'International Emmy Awards nel 2017. Ad Istanbul, un giorno di primavera del 2010, Kemal Soydere, un giovane studente di ingegneria, ha finito gli esami e prende un autobus per tornare a casa. Sembra un giorno come un altro, nella sua vita fatta di studio e di lavori serali per aiutare la famiglia. Fin quando, sull'autobus, sale una ragazza e lui ne rimane subito affascinato. Lei non ha il biglietto e lui non ci pensa due volte ad aiutarla a farne uno. Lei trova posto e ne approfitta per cominciare a disegnare dei ritratti della gente sull'autobus, compreso quello di Kemal, che da lontano la guarda affascinato. Sembra essere stato un incontro come un altro, ma Kemal, rimasto colpito dalla bellezza della ragazza, non riesce già a togliersela dalla testa. La giornata di entrambi dopo questo primo incontro continua come sempre ed è così che scopriamo chi sono, cosa fanno e da quali famiglie provengano. Kemal è il secondo di tre figli. Suo fratello maggiore, Tarik, lavora insieme al padre, Houssein, nel loro negozio di barbieri. Mentre sua sorella minore, Zeynep, aiuta la madre, Feime, con i lavori di casa. La famiglia di Kemal è di modeste e dignitose origini e tutti contano sul fatto che presto Kemal diventi un grande ingegnere. La ragazza, invece, si chiama Neyan Sezin e proviene da una famiglia ricca. Il padre, Onder, gestisce una grande azienda nel settore delle risorse minerarie e la madre, Vildan, tiene molto ai soldi e alla loro condizione agiata. Neyan ha un rapporto abbastanza burrascoso con la madre. Se lei, infatti, vive la sua vita in maniera spensierata e odia il classismo e le ingiustizie, di tutt'altra pasta è fatta sua madre, attaccata al denaro e fiera del suo status. Neyan va molto d'accordo, invece, con il padre, un uomo fiero ed orgoglioso che tende a mettere al primo posto la famiglia e gli ideali. Chiude il cerco familiare Ozan, il fratello gemello di Neyan. I due sono inseparabili e farebbero di tutto l'uno per l'altra. Anche sua madre, Vidal, sembra trattarlo con più riguardo e affetto, a causa forse delle sue condizioni di salute. Infatti Ozan soffre di gravi crisi epilettiche che fanno preoccupare molto la sua famiglia. La famiglia di Kemal è molto unita, anche se Tarik sembra provare un po' di invidia per il fratello minore, il più coccolato e ben voluto dai genitori. Nonostante ciò e nonostante il loro umile stile di vita, genitori e figli sanno di poter contare gli uni sugli altri. Neyan, invece, nonostante viva in ottime condizioni economiche, deve fronteggiare una crisi familiare dovuta proprio agli affari del padre. Sembra infatti che l'azienda di Onder sia in crisi e che solo un grande finanziamento da parte di Emir Kozokoglu possa salvarli dalla bancarotta. È Emir il vero problema nella vita di Neyan. Il ragazzo ha una vera e propria ossessione per lei, la considera la sua fidanzata anche se lei rifiuta con insistenza tutte le sue proposte e i suoi inviti. La madre Vildan, però, che per nulla al mondo ha intenzione di rinunciare al suo stile di vita, cerca di spingere Neyan ad assecondare i desideri del ragazzo, così da imbonirlo e convincerlo a salvare l'azienda di famiglia. Emir è un ragazzo controllante, violento e ossessivo, tanto da far seguire e spiare con insistenza Neyan e anche suo fratello Zan. Dopo un mese dal loro primo incontro, Kemal, al centro commerciale con un suo amico, nota una mostra di ritratti organizzata dall'Accademia d'Arte di Istanbul e proprio tra i vari ritratti riconosce se stesso. Capisce subito che quel disegno è stato fatto dalla ragazza dei suoi sogni e leggendo l'autore del ritratto scopre finalmente il suo nome, Neyan. Per lui, più che una coincidenza, è un segno del destino. Infatti, la sera stessa, mentre sta andando al molo per concludere un lavoro, nota che in un locale nelle vicinanze c'è una festa di compleanno. La festa è proprio per Neyan. La vede e rimane senza parole, vorrebbe andare da lei, ma le circostanze e soprattutto l'arrivo di Emir lo fanno demordere e, sconsolato, va al molo per finire dei lavori su una barca. Intanto, l'arrivo di Emir non fa per nulla piacere a Neyan, anzi, lui, gelosissimo e violento, si presenta anche ubriaco e addirittura picchia un ragazzo colpevole solo di aver parlato con Neyan. Per lei è troppo, abbandona la sua stessa festa e va verso il molo, vuole prendere la sua barca per fare un giro ed allontanarsi il più possibile da quel luogo. Mentre cerca frettolosamente di salpare, rimane impigliata con il piede in una corda e cade in mare. In seria difficoltà, Neyan viene prontamente salvata da Kemal, che da lontano aveva assistito alla scena. Lui, preso dalla forte emozione di averla ritrovata, le porge subito i suoi auguri e la chiama per nome, destando subito dei sospetti in lei. Ma il sospetto iniziale dura pochissimo, Kemal le spiega tutto di come abbia saputo il suo nome e di come sia passato per caso davanti alla sua festa. L'attrazione e la sintonia tra i due è forte e indiscutibile, infatti finiscono per passare tutta la serata insieme, chiacchierando di come siano le loro vite e dei loro progetti futuri. Giunge l'ora di separarsi, ma non prima di essersi scambiati i numeri di telefono con la promessa di rivedersi. Non passa nemmeno un giorno che Neyan chiama Kemal per incontrarsi. Lui, senza pensarci troppo, l'ha invita a casa di una sua carissima amica più grande, Leila. Per Kemal sono importantissimi i giudizi e i consigli di Leila e ci tiene che anche a lei piaccia Neyan. Quando la ragazza arriva a casa della donna però si nota subito un certo sgomento da parte di Leila che sembra già conoscere la ragazza. Infatti la donna, rimasta sola per un po', rispolvera delle vecchie foto che ritraggono due bambini, un maschio e una femmina. Tra sé e sé si dice che non è possibile, non può essere lei e a stento trattiene le lacrime. Forse Leila conosce già Neyan e forse il loro legame sembra essere stato veramente importante per lei. I giorni passano e Neyan e Kemal non riescono a stare separati, è fin troppo evidente, i due si amano. Emir, per Neyan, non sembra rappresentare neanche un ostacolo all'amore per Kemal, per lei è inconcepibile anche solo considerarlo un ipotetico partner. I primi problemi però sembrano arrivare tutti insieme e come un macigno sulle spalle di Neyan e Kemal. Emir detta palesemente le sue condizioni per salvare l'azienda della famiglia Senzin. Neyan dovrà essere sua, dovrà sposarlo altrimenti l'affare andrà a monte. Onder rimane scioccato dalla proposta, non ha intenzione di sacrificare la felicità di sua figlia per gli interessi aziendali, di tutt'altro avviso invece è Vildan che cerca di convincere la figlia a sposare Emir. Contemporaneamente Kemal riceve la risposta per un lavoro di cui aveva fatto il colloquio mesi prima. Dovrà trasferirsi fuori, lontano, a Zonguldalk. Se Kemal pensa che le loro differenze sociali saranno un ostacolo al loro amore, Neyan è convinta che insieme riusciranno a sconfiggere tutte le avversità. Per lei non sarebbe un problema trasferirsi con lui lontano da Istanbul e vivere insieme in maniera modesta ma innamorata. Ma le difficoltà e i problemi sono appena iniziati, sia Neyan che Kemal non hanno idea di quante altre avversità la vita metterà loro davanti. Termina così questo video introduttivo sulla nuova serie Endless Love, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Io sono Stefania e seguiremo insieme anche questa nuova serie turca, quindi mi raccomando ci sentiamo nei commenti e e continuate a seguirmi per i primi video di anticipazione.